E allora eccoci qua, e allora eccoci qua, è da un pochettino che bramavo questo video sinceramente con l'augurio che si potesse a tutti gli effetti realizzare vedendo che ci sono stati dei momenti anche un pochino così, un pochino sul chi va là, che però fortunatamente sono stati pienamente risolti e che soprattutto avremo la possibilità di vedere anche tra qualche minuto, ma è veramente meraviglioso tornare qui quando ci sono poi determinati acquisti che fanno sognare noi, che fanno inevitabilmente anche un pochettino cagare nelle braghe gli altri e che soprattutto sono conditi da commenti quantomeno particolari, via limitiamoci ad utilizzare solo ed esclusivamente questo termine un pochino particolari, con l'augurio però che ovviamente che questo possa essere solo l'inizio di una serie di video sempre più presenti e costanti durante la stagione 2024-2025 che a tutti gli effetti è iniziata nella giornata di ieri perché vanno benissimo questi video legati ad operazioni in entrata e parallelamente in questa determinata circostanza pure ad operazioni in uscita, però quello che poi interessa a noi è anche e soprattutto il campo, il rendimento che la Juventus di Tiago Motta potrà a tutti gli effetti avere all'interno del rettangolo verde che rimane pur sempre la cosa più importante ma in questa determinata circostanza non siamo qui a parlare di questo ma a parlare di ben altro e un ritorno di questo genere è veramente meritevole, dai, senza esagerare proviamo ad arrivare a 5000 like, 5 come gli anni di contratto di Douglas Lewis come giocatore della Juventus mi sembra anche un filo rosso non proprio del tutto banale sinceramente quindi non deludetemi, spingete con quel maledetto mi piace e mi raccomando se ancora non l'avete fatto iscrivetevi perché al di là di tutto sempre con l'augurio che questo possa ritenersi a tutti gli effetti un inizio beh, non penso, non penso proprio sinceramente che valga la pena perdersi video di questo genere, non penso veramente proprio e per non farlo giustamente appunto vi dovete iscrivere, detto ciò si passa ad una delle parti più belle perché in tutto questo ragazzuoli come al solito non voglio rubarvi un minutaggio esagerato anche se in questa circostanza probabilmente il video verrà abbastanza lunghetto ma ne vale la pena, ne vale veramente la pena e quindi direi premessa e partiamo e sinceramente prima di entrare nel vivo della trattativa mi sembra quantomeno doveroso voglio farvi presente quella che era l'idea generale attorno a ciò che sarebbe stato il futuro della Juventus e il tenore dei colpi che la Juventus si sarebbe potuta permettere all'interno dell'estate 2024 per quanto concerne il calcio mercato e bisogna fare un passo abbastanza indietro, in un modo anche abbastanza importante in tutto questo perché no? perché si torna a inizio aprile 2024 quando di fatto Felipe Anderson era promesso sposo quantomeno dal punto di vista giornalistico alla Juventus mentre invece di punto in bianco ha virato direzione Brasile, direzione Palmeiras e proprio per questo appunto come voleva si dimostrare benvenuti nel mondo del ridimensionamento economico e in tutto questo la cosa che fa più ridere è che l'Inter il prossimo anno si presenterà rafforzata anche dal mercato la Juventus invece sarà costretta a continuare il suo percorso di ridimensionamento tic tac, tic tac e questo qui appunto era il contesto di qualche mese fa e figuriamoci quando poi nel bel mezzo di una giornata di metà barra fine giugno inizia ad essere accostato alla Juventus un giocatore del calibro di Douglas Lewis dove a primo impatto l'unica cosa che ti viene da dire è così e quando magari si inizia a dire che la Juventus ha aperto gli occhi a quella che tutti gli effetti può essere ritenuto un'opportunità di mercato li ha chiusi pure subito perché hanno capito che non hanno soldi neanche per portarlo a pranzo un giocatore titolare di una squadra inglese e questo qui non era il pensiero solo ed esclusivamente, non lo so di persone normali, persone comuni che giustamente hanno bisogno di scaricare la bile su un social network no, perché tutto sommato anche giornalisti abbastanza importanti o che quantomeno sulla carta dovrebbero essere tali non è che abbiano poi un pensiero così tanto distante da quelli precedentemente eletti e quindi via al sostegno video da tempo la Juve apprezza, ha seguito e segue Brescianini, no? quindi stamattina dico ma Brescianini come siete? Non lo chiudete così? non possono prenderlo cioè non possono prenderlo, Brescianini costa 15 milioni cioè non possono prenderlo quindi ad oggi parlare di Douglas Lewis secondo me è una forzatura e poi però purtroppo la situazione è iniziata quasi subito ad entrare dal vivo nonostante ci sia stato un casino esagerato per quanto riguarda le valutazioni ma anche qui ci sarà tempo, mode e maniera per osservare il tutto a tempo debito diciamo però ecco, la trattativa si era subito impostata in una maniera abbastanza interessante dove la Juventus inizialmente era riuscita a mettere all'interno di quest'operazione due giocatori A. non più al centro del progetto B. uno dei quali non è che abbia ottenuto un minutaggio esagerato nel corso della stagione in questa determinata circostanza è ovvio che io mi stia riferendo ad Ealing Junior e soprattutto ci due giocatori in scadenza nel 2025 due giocatori che non sono mai sembrati particolarmente disposti a rinnovare Ealing magari a causa del poco minutaggio McKennie invece a causa di una richiesta economica non ritenuta congrua per quanto riguarda l'estensione del contratto quindi insomma, per fortuna, per fortuna si parla di due giocatori che subito hanno attratto l'interesse da parte della Stonevilla tanto che il tutto pare sia proprio iniziato grazie all'interessamento della Stonevilla nei confronti di Weston McKennie dove poi, Monci parlando congiunto, gli ha fatto presente che potenzialmente per la Juventus ci sarebbe stata la possibilità di poter raggiungere Douglas Lewis come detto prima, da un nostro caro amico di città laggiù un giocatore titolare di una squadra inglese che nella passata stagione ha fatto 10 gol e 10 assist solo che in tutto questo poi a livello giornalistico sono uscite le valutazioni sono uscite le valutazioni dei giocatori e apriti cielo si inizia piano piano ad entrare sempre più nel vivo quindi McKennie e Hirling scadenza 2025 all'interno dello scambio verrebbero valutati 47 milioni ok, magari sinceramente mi dice magari starebbe a significare solamente conguaglio di 3 milioni per la Juventus vedendo che stando al comunicato ufficiale uscito di domenica verso le due mezza il giocatore è stato pagato 50 milioni da parte della vecchia signora magari 47 milioni McKennie più Hirling Junior ma ancora sono lunghi i discorsi sono lunghi perché in tutto questo quando i gobbi capiranno che il problema non è la valutazione in un'operazione singola ma una valutazione all'interno di uno scambio di giocatori nel cielo appariranno due soli e speriamo che quindi possa essere ritenuta congrua la valutazione di cos'è mi pare 21 milioni complessivi più bonus sia per Barrenecea che per Hirling Junior anche perché proprio stando a quelle che sono le valutazioni di Transfermarkt beh, si parla a grandi linee di quelle cifre e perché parlo di Transfermarkt? questo molto semplicemente lo capirete a tempo debito in quanto evidentemente pare essere ritenuta tipo la Bibbia per quanto concerne le valutazioni dei giocatori ma appunto speriamo che queste valutazioni qui possano essere ritenute adatte dalla polizia dei bilanci del Twitter altrimenti sono cassi ve lo dico subito sono cassi ma voi pensate che sia finita qui? eh no sarebbe troppo facile qualora fosse effettivamente finito qui questo discorso quello che non capiscono i gobbi e ci sta perché sono ritenuti che sono stati puntiti proprio per questo per le valutazioni fittizie su scambi se arriva un club con 25 mln si può obiettare sulla cifra ma non è illegale poi però quando la Juventus è riuscita a piazzare Moise Ken per 13 milioni più 5 di bonus la Fiorentina pure lì apriti cielo che è la metà altro che due soli potenzialmente 4-5 potevano uscirne e in quel caso però non andava bene uguale ma in tutto questo in tutto questo si ripete la solita domanda 21 milioni per il cartellino di un 2003 che ha comunque giocato nella Juventus fatto presenze anche in campo internazionale tra Champions League ed Europa League e uno di 8 milioni quello di Barrenecea classe 2001 anche qui oltre che presenze con la prima squadra della Juventus pur un anno da titolare al Frosinone dove tutto sommato penso proprio si possa dire che abbia fatto una bella stagione vanno bene oppure no cioè tocca anche iniziare a capire questi discorsi questi discorsi qui poi altri verranno toccati in seguito come ci sarà modo di poter vedere il in junior la scorsa stagione è partito titolare solo 4 volte due di queste sono l'ultima la penultima giornata è stato valutato 20 milioni il suo valore non è gonfiato i miei giornalai e io posso aggiungere i miei creduloni in quanto il in junior è andato all'Aston Villa a praticamente la metà i miei creduloni perché poi dopo giustamente ti fanno anche tutte le varie spiegazioni del caso perché se uno non le capisce con le buone a una certa giustamente dico io devi iniziare a capirle anche con le cattive o con gli esempi che veramente se non riesci a capire anche un semplice banale disegnino evidentemente c'è proprio un problema di fondo se ho un'auto che vale 10 e trovo chi è disposto a pagarla 15 la vendo e faccio un buon affare se ho un'auto che vale 10 e trovo un tizio che ha due auto che valgono 5 e ce le scambiamo valutando le 20 gonfio i prezzi e faccio plus valenze fittizie posso essere anche completamente d'accordo poi però anche qui vai a vedere la valutazione di transfer mark di Douglas Lewis 70 milioni quella di Eling Junior 13 milioni cifra cui a tutti gli effetti è stato ceduto ma qui giustamente si parla anche della questione legata a Weston McKennie valutazione transfer mark 28 milioni però qualora la Juventus l'avesse messo a 30 nella cessione che l'avrebbe portato alla Stonevilla non sarebbe comunque andato bene c'è un qualcosa che non torna se ci andiamo un attimino a pensare ma d'altronde quando si parla della coerenza di città laggiù si parla anche di questo e ne siamo tutti quanti abbondantemente consapevoli ci mancherebbe altro quindi in questa determinata circostanza non è che pare ci sia stato tutto questo grande pompaggio di prezzi a differenza di una trattativa che avremo possibilità di vedere tra poco ma rimanete connessi rimanete connessi piccolo spoiler si parla di una trattativa fatta da parte della squadra tifata proprio da tutti questi personaggi letti fino a questo momento facciamo un piccolo giochino mettete in pausa il video senza barare nonostante siate Juventini e capisco che sia difficile ma senza barare solamente basandovi sullo spoiler fatto fatemi sapere qui sotto con un commento secondo voi di che operazione si stia parlando tra qualche minuto forse tutto quanto sarà più chiaro ma adesso andiamo avanti perché in tutto questo per l'ennesima volta non ci si può limitare solo ed esclusivamente a ciò che dicono i tifosi sul web anche perché soprattutto poi quando si parla di tifosi anti-Juventini potenzialmente si può tirar fuori veramente la qualunque bisogna sempre passare anche all'aspetto giornalistico che non a caso poi dà sempre più modo alla gente precedentemente citata di continuare in perterrita a svuotare la cloaca e in questa circostanza ci viene in soccorso Teotino che direttamente da Sky ha la possibilità di condividere un bel pensiero riguardo l'operazione Douglas Lewis con McKennie è coinvolto siamo ancora alla fase preliminare di tutto questo discorso qui a 65 milioni non è un grande affare le valutazioni di McKennie e Link Jr sono gonfiate sulla base di cosa sinceramente non lo so come abbiamo visto prima Healing valutato 13 McKennie valutato 28 la somma fa 41 milioni quindi insomma gonfiata anche fino a una certa a meno che anche in questa circostanza non ci sia la polizia delle valutazioni che con dati oggettivi e inconfutabili impongono una valutazione che quindi poi si potrebbe entrare in tutt'altri discorsi ma fino a prova contraria non penso esista ancora la polizia delle valutazioni poi ecco al massimo nel caso la puoi buttare in cacciara parlando di slealtà sportiva perché perché sì ma questo è un altro paio di mani che si aprirebbero altri temi che abbiamo già trattato in lungo e in largo e quindi perché ritornarci su qui in questa determinata circostanza noi ci siamo solo ed esclusivamente per godere e ragazzi oggettivamente l'Inter al posto della Juve nella trattativa con l'Aston Villa beh penso che l'Inter tutto sommato abbia fatto di peggio soprattutto quando mi si parla di valutazioni di giocatori soprattutto quando si parla di operazioni che prevedono lo scambio di determinati giocatori perché finalmente siamo arrivati all'esempio all'esempio lampante perché quelli che guardano sempre in casa degli altri poi quando devono guardare in casa propria hanno sempre delle dimenticanze perché adesso porto come piccolo esempio così pur parler per farci tutti quanti una grassa risata voi per caso vi ricordate l'operazione Atalanta-Inter che ha portato bastoni appunto all'Inter e tre scappati di casa fondamentalmente all'Atalanta perché ve la ricordo io qui stiamo parlando da un pochettino di scambi di plusvalenze fittissie di valori pompati al massimo vi ricordate a che cifra bastoni nel 2018 mi pare è passato dall'Atalanta all'Inter ve lo dico io 31 milioni e mezzo valutazione di mercato sempre secondo Transfermarkt che tornerà utile pure dopo un milione e mezzo d'altronde oh si vede il futuro qui e chi fa invece il percorso inverso chi passa dall'Inter all'Atalanta intanto il mitico Bettella che passa all'Atalanta per 8 milioni e mezzo meno di Barrenecea che ha già praticamente due stagioni in prima squadra tra Juventus con minutaggio e Frosinone da titolare facendo tra le altre cose un'ottima stagione poi Carraro l'irreprensibile Carraro con valutazione di 800 mila euro ceduto sulla carta a 5 milioni ed è finita qui? eh no perché cos'è ci vogliamo di punti in bianco dimenticare del mitico e Guelfi valutazione di 400 mila euro passato dall'Inter all'Atalanta per 6 milioni eh no direi sinceramente no e quindi con le solite magagne come direbbe qualcuno l'Inter praticamente ci è fatta una valutazione di 19 milioni e mezzo per sti tre rutti e l'Atalanta 31 e mezzo per bastoni però questi sono quelli che ti parlano di McKennie e Iling Junior per arrivare ad Douglas Lewis non è tutto quanto semplicemente meraviglioso dal mio punto di vista sinceramente sì ma comunque torniamo a noi pensiamo ai fatti nostri perché al di là di tutto la Consob li chiamerà di nuovo a rapporto perché? perché sì perché così è stato detto e sicuramente senza il minimo dubbio vedendo anche quello che è il modus operandi sicuramente così sarà e per finire non poteva mancare lui in queste determinate circostanze per stare dalla parte del sicuro lui non può mancare mai anche perché Cappucci e Brioche non è che si pagano da sole tocca in un qualche modo contribuire in un modo o nell'altro tocca a secondare la plebaglia che vuole sentirsi dire determinate cose non a caso infatti Douglas Lewis alla Juventus per McKennie Iling e 20 milioni tornano le plusvalenze fittizie la Consob ma dama già fuori legge nel far west della serie A tutto prosegue come i tempi belli di Agnelli e Paratici già a novembre la Consob aveva aperto un procedimento per plusvalenza illecita iscritta a bilancio dalla Juventus per lo scambio cambiaso Dragosin tutto regolare disse Ferrero agli azionisti la FIGC e la Procura dormono d'altronde sappiamo benissimo tutti quanti che la Procura di Torino e la Procura della FIGC quando si parla di Juventus sono solite a dormire e d'altronde però appunto quando vuoi sentirti dire determinate cose scrivi anche queste troiate in mani e tanto altro se ce n'è la possibilità dietro ovviamente a Cappuccio Brioche perché lui ti dice quello che vuoi sentirti dire ma tutto ha un prezzo nella vita e mi sembra anche giusto così perché come disse una maga dei tempi moderni i coglioni vanno inculati e quanti ne incula lui con una maestria cioè maestria è molto semplice vedendo le menti di Taluni ma è un altro discorso è un altro discorso e direi di andare avanti perché in tutto questo siamo ancora alla fase preliminare con McKennie come contropartita mentre invece alla fine della fiera sappiamo benissimo tutti quanti che c'è finito dentro Barrenecea e perché ci finisce dentro Barrenecea di punti in bianco perché poi c'è una fase di stallo una fase importante di stallo tanto che aveva anche inizialmente spinto Di Marzio a dire che qui potenzialmente ci potevano essere i presupposti anche per far saltare tutto il banco e i nostri cari amici come l'avranno mai presa secondo voi dillo che è saltato non avere paura Gianlu di che Douglas Luiz alla Juventus è definitivamente saltato su che cosa ci vuole mai si cercano altre soluzioni ovvero non ci sono soldini e l'offerta è ritenuta ridicola nonostante quello che dice il buon Gianluca perché se le cose bisogna dirle bisogna dirle tutte quante per completezza a modo perché altrimenti è facile dire le robe a metà le robe si devono dire per intere soprattutto quando si ha già la conoscenza e la verità in tasca e puntualmente infatti come si è risolto il tutto come è stato precedentemente detto solo che in tutto questo la Juventus ha anche una grande fortuna grazie al progetto NextGen ha la possibilità di coltivare i talenti per poi magari girarli in prestito quando vengono ritenuti pronti per il salto come è stato proprio il caso di Barrenecea al Frosinone dove ha fatto un'ottima stagione e che effettivamente considerando che si parla di un classe 2001 ci sta assolutamente che possa attrarre l'interesse anche di club esteri come in questa determinata circostanza la Stoneville però anche dietro al discorso Barrenecea sinceramente mi sembra quanto minimo doveroso fare un pochino di dietrologia perché no Barrenecea al posto di McKennie per Douglas Lewis valutato 65 milioni la Stoneville apre la Juventus adesso deve trovare i restanti 64 milioni più o meno più o meno però al di là di tutto ci sta mantenere il dubbio perché se facciamo gli screen di quella che è la valutazione di McKennie e quella che è la valutazione di Barrenecea c'è una bella distanza soprattutto perché inizialmente c'era parlato di un Barrenecea che all'interno dell'operazione sarebbe stata valutata 20 milioni con tanto di lacrime aggiungo io poi però aspetti giorni e che cos'è che viene fuori che Barrenecea è andato alla Stoneville proprio per 8 milioni ma questo è un altro paio di maniche questo non ci interessa minimamente via e decoro e semplicemente decoro puoi sapere la valutazione reale di partenza e se magari qualche Juventino un pochino deviato perché no osa rispondere anche semplicemente pensando a quella che era al tempo la valutazione di Casadei e a quali cifre è stato ceduto tra l'altro proprio costo che avrebbe poi permesso all'Inter di pagarsi un anno di Lukaku in prestito tra prestito oneroso e stipendio del giocatore ma dopo qui si entra in altri discorsi e per l'amor di Dio facciamo finta di nulla chiudiamo un occhio come spesso e volentieri capita proprio quando si tratta di vicende degli amici di Cittalagiu viene data giustamente una risposta precisa specifica che rende tutto quanto estremamente chiaro perché se non l'avete capito allora spieghiamolo Casadei fu valutato 15 milioni più bonus dal Chelsea non dall'Inter che esagerando lo valutava 6 Barrene Cea è stato valutato 20-25 dalla Juventus che lo usa come contropartite insieme a D-Link Junior valutato 10 alla pari di McKennie la vedi la differenza? vedo sinceramente un totale delirio anche perché in tutto questo mi sembra anche sempre giusto ricordare che quando fai operazioni fai operazioni quantomeno tra due parti tra il compratore e il venditore e se se il compratore e il venditore raggiungono l'accordo stabilendo la cifra ritenuta congrua da entrambi per quanto riguarda la valutazione di un oggetto o in questa circostanza di un giocatore insomma mi viene difficile pensare che il Chelsea dica cazzo Casadei vale anche probabilmente per noi da subito 50 milioni facciamo una roba diamogliene 20 sperando che ci dicano di sì con l'Inter che in tutto questo diceva ma dai questo qui è un rutto se ce ne danno anche 4-5 al massimo 6 che la nostra valutazione è oro che cola e poi si vedono il Chelsea arrivare con 20 tutto è semplicemente meraviglioso ma d'altronde quando devi creare un certo tipo di narrazione ci mancherebbe altro che non sia così narrazione esattamente come questo tema che è abbastanza costante da qualche mese a questa parte nonostante si siano già espressi su quella tematica inerente la giustizia ordinaria metteranno a 20 30 pure lui correggono a penna dove ricordiamolo è già cascata l'accusa di correzione di fatture elettroniche a penna d'altronde è una roba ma d'altronde cioè si parla di questi elementi d'altronde si parla di questo livello qui e ci mancherebbe altro se Barrenecea lo valutano 25 milioni allora Bove vale 40 milioni Barrenecea è andato alla Stonvilla per un terzo poi oh se riuscite a trovare qualcuno a darvi 40 milioni per Bove bravi voi ma sinceramente ho dei dubbi vedendo le qualità del giocatore osserissimi dubbi va bene così va bene così figuriamoci McKennie sarebbe stato valutato 30 milioni Barrenecea invece 8 come d'altronde c'è scritto pure nell'immagine che hai postato sarebbe bastato attendere qualche giorno ecco né più né meno più che altro mi fa strano che si parli tanto per cambiare sempre della stessa tifoseria che tramite le cheerleader e sappiamo benissimo tutti quanti chi siano le cheerleader stiano cercando ripetutamente di vendere un giocatore a 40 milioni spacciandolo pure per affare nonostante anche qui come abbiamo visto prima quando devono portare certe tesi pubblichiamo lo screen col valore di transfer mark vai a vedere la valutazione di quel determinato giocatore sempre secondo lo stesso sito e si parla che vendendolo boh al doppio o anche al triplo tutto sommato perché no si farebbe comunque un affare strano il mondo strane anche le narrazioni ma d'altronde seriamente cazzo gli frega se li beccano prendono 700 mila euro di multa chi glielo fa fare ad essere onesti dai soprattutto quando mi si parla di plusvalese ma almeno noi come detto te alla brutto dio paghiamo 700 mila euro c'è chi se la cava con 90 mila non so a questo punto che cosa sia peggio e qui si parla di Nagatomo caldirola garritano quando probabilmente l'esempio portato prima nell'operazione inter atalanta per bastoni beh potenzialmente è anche decisamente peggio ma se in tutto questo anche con una facilità disarmante quantomeno dal punto di vista giornalistico la juventus è riuscita ad inserire barrenecea ed è riuscito a convincere più che altro la stonvilla che anche barrenecea sarebbe un ottimo colpo un ottimo affare cioè ci sarà un motivo dietro no? viene da pensare ci sarà un motivo dietro perché razionalmente chi è che ti direbbe sì dai dammi barrenecea a otto me lo faccio andare bene lo stesso al posto di McKenna a 30 e il motivo è stato trovato anche in questa circostanza dai soliti noti con una scera di delirio che mi ha spiazzato mi ha spiazzato ma allo stesso tempo mi ha fatto anche estremamente godere perché conscio che l'avrei inserito all'interno di questo video qui a quanto pare a meno che non si tratti di un caso di omonimia il proprietario della stonvilla è ancora tra i membri del consiglio di partner di Exor azionista di maggioranza di Juventus Football Club e quindi questo come al solito ha dato la possibilità al populino di continuare a svuotare la bile attorno a quest'operazione che ha preso sempre più i connotati della commedia o della tragico media dipende anche sempre dai punti di vista hashtag Douglas Lewis hashtag Barrenecea hashtag Healing Junior fondazione Jidentità Bianconera espostino per la trasparenza che vi contraddistingue solo che in tutto questo poi uno giustamente si domanda cosa c'è dell'illegale in tutto questo dove appunto il presidente della Stonvilla non è che magari ha delle quote di Exor non è che magari ha delle quote direttamente della Juventus a differenza di altri presidenti di Serie A che hanno quote di una determinata squadra e magari se uno ha delle quote di un'altra squadra essendo presidente di un'altra squadra ancora forse effettivamente un pelino di conflitto di interessi ci può lo si può trovare diciamo lo si può però in quella determinata circostanza silenzio ci sono presidenti che hanno più squadre all'interno o dello stesso campionato o quantomeno dello stesso paese e anche quella circostanza va tutto benissimo anzi poi vediamo scambiarsi giocatori a cifre interessantissime ma si può tranquillissimamente far finta di nulla poi c'è il presidente della Stonvilla che fa parte del consiglio di amministrazione dei partner di Exor ma non va bene ma non va bene perché poi qual è il problema di fondo qual è il problema di fondo è che se vi ipervalutano due nullità nasce il problema perché se c'è il pignoratto che mi parla di Ealing Junior e Barrenecea come due nullità e beh tocca dar corda lui c'è poco da fare è indubbiamente così però Carboni con 40 milioni si fanno a fare bastoni valutazione di mercato un milione e mezzo comprato a 31 per fare magari un favorino all'amico e beh dopo lì è estrema lungimiranza perché si sapeva che bastoni sarebbe diventato bastoni però considerando che si parla di un 2003 quando si parla di Ealing Junior chissà che cosa diventerà tra 4, 5, 6 anni chi lo sa però per stare dalla parte del sicuro non va bene lo stesso ah e dimenticavo voi avete scritto la storia delle plusvalenze fittizie tramite Transfer Market Parati ci insegna ho riportato per dovere di cronaca ma sinceramente ho capito veramente molto ma molto ma molto poco mentre invece c'è un qualcosa che è decisamente più chiaro perché non c'è da stupirsi le squadre oneste fanno anni in cui vendono i vari Lukaku e Hakimi per ripianare i bilanci che non correggono a penna le squadre disoneste colluse ricorrono a questi mezzi per potenziarsi falsando i campionati questo sempre legato al fatto che il presidente della Stonvilla faccia parte del consiglio di amministrazione dei partner di Exor dove appunto c'è zero potere decisionale e tutte queste robe qui sono semplici sono fatti così sono fatti così che cosa ci vogliamo fare o magari appunto comprano dall'amichetto bastogna 31 e mezzo con valutazione un milione e mezzo e gli danno tre rutti per 18 milioni totali nonostante la valutazione effettiva dei giocatori sia boh due milioni e mezzo sommando tutti quanti ma d'altronde quando la coerenza è di casa questo è tanto altro ma lo sappiamo benissimo già ma è proprio qui che ti viene da dire che hanno ricominciato con le magagne e che Tana libera tutti per il solito trucchetto dei gobbi di merda effettivamente è stata una roba completamente antisgamo d'altronde come se non si sapesse sulla carta il presidente della Stonevilla e ci fosse bisogno dell'hacker per eccellenza per andare sul sito di Exor e vedere quello che è il consiglio di amministrazione dei partner di Exor serve una roba che Sherlock Holmes si dispera due settimane prima di trovare la soluzione qui e poi però purtroppo che in tutto questo si va avanti cresce sempre più l'ottimismo e alla fine della fiera in data 30 giugno 2024 Douglas Lewis diventa ufficialmente un giocatore della Juventus e nonostante che per tutto il tempo di fatto si sia parlato di una Juventus che avrebbe messo a bilancio una valutazione tra i 65 e 70 milioni alla fine della fiera stando al comunicato ufficiale la Juventus verserà nelle casse del club di Birmingham 50 milioni però in tutto questo noi si abbiamo detto all'inizio che si parla di un titolare della Premier League che ha fatto 10 gol e 10 assist però da un punto di vista squisitamente tecnico abbiamo parlato poco e mi sembra anche finalmente giunto il momento di poterlo fare 51 milioni per uno che nel Brasile fa panchina Giao Gomez ci vuole coraggio Rabiot che fa il titolare della Francia mandato via zero per prendere uno che porti i borsoni nel Brasile a 50 e infatti non penso ci sia qualcuno che non dica che quei soldi siano stati buttati almeno fallo arrivare almeno fargli fare qualche partita almeno fargli fare una stagione due per effettivamente capire se sia stato un buon investimento oppure no però leggo discorsi quantomeno fumantini via quantomeno fumantini che però non sono finiti qui e ci mancherebbe altro ma poi no se uno gioca nella Stonvilla ed è forte secondo te non lo vogliono Liverpool e City? ah 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 chissà che pacco sarà eppure li vedo tutti quanti estremamente interessati ad ogni vicenda di casa Juventus e se è una squadra di merda tutte le operazioni sono fallaci al massimo ci sono delle magagne perché interessarsi soprattutto se City fa la squadra più forte del mondo con il blocco che ha condotto la nazionale italiana ad Euro 2024 ai massimi successi che bisogno c'è a pensare solo ed esclusivamente a ciò che fanno gli altri nessuno sulla carta eppure loro sono sempre comunque lì 51 milioni per uno che nel Brasile fa panchino a Joe Gomez se è Bruno Guimaraes l'ho detto da subito io con Motte giuntoli la Juve diventerà una squadra hipster come il Milan unica rivale credibile per noi il Napoli di Conte giusto ma tecnicamente l'unica vera rivale credibile per voi dovrebbe essere il Real Madrid il Manchester City perché stando alla narrazione abbastanza narniesca che vi tirate su di volta in volta parlate sempre come no se fosse la squadra più bella più forte del mondo che se la giocherebbe a mani basse con chiunque poi appena nella fase di eliminazione diretta della Champions si alza un minimo il livello scappazzoni nel muso come storia racconta in lungo e largo ma sono altre tematiche ma va bene a me sinceramente va benissimo una Juventus estremamente sottovalutata perché dovrà scendere in campo senza la minima pressione cercando intanto di migliorare ciò che è stato proposto nella passata stagione e poi chi lo sa diciamo tempo al tempo semplicemente senza fretta giusto unica concorrente il Napoli di Conte giustissimo non fa una piega per quanto mi riguarda grassissime risate per prendere il Gagliardini brasiliano hanno dovuto fare il contratto anche alla trans svizzera io sinceramente sono curioso di sapere chi si bomba uno così se reputa una come Alicia Lehmann una trans svizzera ma giustamente non è che siamo qui per fare body shaming a differenza sua e prendiamone semplicemente atto speriamo che Alicia Lehmann possa contribuire al bene della Juventus Women noi limitiamoci a dire solamente di questo e per finire dato che sì spoiler quello di adesso sarà a tutti gli effetti l'ultimo commento mi sembra giusto anche fare una piccola considerazione su Cristiano Giuntoli per prendere un bel centrocampista Giuntoli ha avuto bisogno di svendere due talenti la Stonville obbligata a vendere un azionista exor per abbassare il prezzo da 65 a 50 milioni che non è un azionista exor ma è un altro paio di maniche permissive regole contabili per scrivere a bilancio le operazioni come più conviene eppure voi siete sempre lì belli fumantini ad osservare la qualunque e tra l'altro in tutto questo indirettamente mi viene detto che 22 milioni totali per il Link Junior e Barrenecea siano troppo pochi no perché stando a quella che è stata la narrazione per tutto il periodo sembrava diversa la storia poi a operazione conclusa li abbiamo svenduti incredibile come per stare dalla parte del sicuro non vada mai bene nulla speriamo poi che con l'inizio delle competizioni ufficiali anche la prostata avrà bisogno di qualche controllino vedendo il costante continuo dolore come in realtà storia racconta perché altrimenti non ci sarebbe questa ossessione qui e a me è sembrato tanto per cambiare tutto quanto estremamente meraviglioso ragazzuoli belli se posso essere tremendamente onesto con voi e mi auguro semplicemente che il video vi sia piaciuto che vi abbi intrattenuta dovere che abbiate gradito il ritorno di questa serie e chissà se magari il calciomercato ci potrà deliziare con ulteriori video di questo genere tra operazioni in entrata e quelli in uscita e per il resto nulla voi ovviamente fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza Juve